Questa è solo una piccola parte, questo è un risultato parziale perché cumuli come questo ce ne sono altri tre disseminati a poche centinaia di metri da qua e abbiamo raccolto diverse decine di buste, anzi credo oltre un centinaio di buste perché sono stati tanti partecipanti, circa cento persone sono passate tra le dieci e mezzogiorno e hanno aderito a questa iniziativa che abbiamo lanciato come Fit Walking Oristano perché questo è il posto dove abitualmente ci alleniamo e ci dispiaceva vederlo così ricco purtroppo di rifiuti, così sporco. Poi partendo dalla raccolta della plastica in realtà abbiamo trovato anche tutte le testimonianze di molte persone che purtroppo non smaltiscono correttamente i rifiuti e quindi le tipologie sono le più svariate da reti dismesse e abbandonate a trezzi da pesca, rifiuti ferrosi, anche batterie d'auto, quindi anche rifiuti speciali purtroppo.